Professore Simone Vieri, docente ordinario di Estimo Rurale e la Sapienza, può dire per la nostra RACNE TV qual è la sua attività di ricerca? L'attività di ricerca in questo settore, che poi è l'economia agraria ed estimo rurale, per quanto mi riguarda, è relativo soprattutto ai temi della politica agraria, io mi sono sempre occupato di politica agraria, attualmente i temi sui quali ho concentrato la mia attenzione riguardano principalmente la multifunzionalità agricola, l'impiego degli UGM nell'agricoltura, le problematiche relative alle erdoenergie e poi la politica agricola comune che rimane uno dei miei principali campi di interesse.